buongiorno ragazze e ragazzi oggi siamo ritornati qui con un nuovo video questo video si tratta di un nuovo video recensione perché abbiamo acquistato questo monopartner molto bello della parcol che si ritrova su amazon e infatti vi lasciamo il link giù e tutte le ulteriori informazioni giù nel box allora apriamolo perché siamo eccitadissimi aspetta tu pace tu 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 ok ragazzi allora questo è il monopattino allora non è quello che una carta questo è consigliabile dai 7 anni in più fino ai 15 anni aspetta giulia aspetta un attimo e praticamente è questo qua con qua qua e qua c'è il lo sterzo che poi dobbiamo montare allora ora vi facciamo vedere chi è incartato per bene aiutami al posto di fare lo scemo allora con la carta c'è la plastica a quattro ora ecco qua giulia aspetta un attimo ragazzi allora il monopattino è stupefacente è montato così escono anche le chiavi dentro per montarlo e guardate guardate la cosa le ruote si illuminano quando camminate ed è bellissimo questo monopattino è un attimo io faccio qui esce verde rosso e blu ok ragazzi questo è il monopattino è strabello ed è della fascol e guardate qua sa anche scritto vicino fascol su amazon ed è strabello compratelo si possono scegliere i colori noi abbiamo preso fu così a qua sotto però è troppo bello compratelo ok ora quindi andiamo a provarlo venite usciamo ragazzi capo bello No, no. 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 No, no.